Per la prima volta nella storia, il 2 giugno 2023, in occasione della Festa della Repubblica, musei e parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Questa decisione è stata presa dal Ministero della Cultura, che ha stabilito l'accesso gratuito nei luoghi di cultura non solo per il 2 giugno, ma anche per il 25 aprile e il 4 novembre. Questa iniziativa si aggiunge alle 12 giornate del progetto Domenica al Museo. Durante queste giornate speciali, le visite si svolgeranno negli orari di apertura abituali e sarà possibile prenotare l'accesso qualora fosse richiesto. Per avere tutte le informazioni aggiornate riguardo a questa iniziativa, si può consultare il sito web del Ministero della Cultura all'indirizzo cultura.gov.it slash evento slash 2 giugno 2023. L'elenco degli istituti culturali pubblicato sulla pagina sarà aggiornato in tempo reale dagli istituti periferici del Ministero della Cultura. In aggiunta, il 4 giugno si terra il regolare evento Domenica al Museo. Anche in questa occasione, l'ingresso nei musei e nei parchi archeologici statali sarà gratuito e le visite si svolgeranno negli orari di apertura abituali e sarà possibile per notare l'accesso dove necessario. Nel mese di maggio, questa iniziativa ha registrato la partecipazione di 300.920 persone. Per ulteriori informazioni e per consultare l'elenco completo dei luoghi culturali aderenti a questa iniziativa, è possibile visitare il sito cultura.gov.it slash domenicalmuseo.